Musica Blizz Pro Orsa ieri in provincia per sgombrare gli uffici è intervenuta la polizia attacco indegno per il presidente Rossi in piazza Dante ultimo giorno di sit-in degli animalisti l'attenzione si sposta a Pinzolo dove sono in programma due cortei Bentrovati e buon pomeriggio dalla prima edizione del TG Regione dalle redazioni di Bolzano e di Trento è dovuta intervenire la polizia ieri sera per sgomberare il palazzo della provincia in piazza Dante a Trento per l'irruzione di un gruppo di animalisti che chiedevano il ritiro dell'ordinanza per la cattura dell'orsa danizza per il dici il fronte animalista si spacca oggi la tigione potrebbe spostarsi a Pinzolo ma ci dice di più Manuel Codignoni Di tutti quanti forse quella con l'animo più tranquillo è proprio lei l'orsa danizza a zonzo per i boschi della Varrendena sfugge le trappole e se ne sta tranquilla mentre qua giù più a valle è il caos a Pinzolo era previsto un doppio corteo per oggi da una parte gli animalisti dall'altra chi difende l'aggredito Daniele Maturi Carnera quest'ultimo corteo non è stato però autorizzato dalla questura ma non è da escludere che qualcuno scende in piazza lo stesso e si annunciano scintille ieri gli animalisti del partito animalista europeo fronte animalista e irriducibili toscani hanno occupato il palazzo della provincia di Trento al grido di da qui non ci muoviamo finché non viene revocata l'ordinanza di cattura vanno ogni tentativo di mediazione ci ha voluto un blitz della polizia per liberare il palazzo abbiamo preso decisioni collegiali e ponderate dice l'assessore dalla piccola queste cose infangano l'immagine di una provincia leale e laboriosa e comunque ha chiarito ai manifestanti non agiamo sotto minaccia mai la provincia ringrazia il forza dell'ordine e annuncia avanti sulla strada intrapresa da Pinzolo il cui clima si annuncia rovente nonostante il meteo arriva un invito a rispetto per chi dell'aggressione porta ancora i segni Daniele eppure è stato attaccato da più parti ad un certo punto bisogna cominciare a capire esattamente quello che è il rispetto della persona anche delle emotività è ora di finirla certo è che l'incolumità del cittadino viene davanti a qualsiasi altra cosa d'altro canto i manifestanti non si arrendono avanti con la protesta Rossi sta ignorando le decine e decine di migliaia di persone che sono contare a questa ordinanza non è una scelta democratica il suo comportamento è antidemocratico noi vogliamo assolutamente che l'animale rimane libero nel suo habitat naturale nessuno si deve azzardare e toccarlo altrimenti sarà guerra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti